Ciao! In questo video oggi vorrei parlare di video, o meglio, del canale video che anche la tua azienda dovrebbe attivare per vedere aumentare il proprio giro di affari. La domanda è, come e perché un canale video rappresentano un'opportunità per farti aumentare il giro d'affari? Partiamo dal perché. Tutto avuto inizio circa due anni fa, quando Facebook, presentando agli sviluppatori le nuove innovazioni, si è presentato con un titolo che non lasciava scampo a nessun tipo di fraintendimento. Prima i video. Questo mi ha fatto capire che c'era in arrivo una nuova rivoluzione. E così è stato. Per mestiere so che più un claim è breve e più risulta incisivo. Questa, fra l'altro, è una chicca che potresti utilizzare anche nella tua comunicazione. In queste due semplici parole, video first, c'era in realtà una locomotiva che avrebbe trasportato con sé tutti quelli che si sarebbero accodati da lì a poco per avere successo. Da quel giorno abbiamo visto letteralmente esplodere la comunicazione video. Sono tantissime le persone di ogni etnia, di ogni professione, che hanno visto cambiare la propria vita dopo aver saputo utilizzare il canale video. Il video è molto più attrattivo di qualsiasi altro mezzo comunicativo, post, articoli, perché è empatico. E poi ci sono miliardi di smartphone collegati che, in mano a miliardi di persone, sono costantemente connessi per vedere video. Ora mi calo un po' nella realtà imprenditoriale italiana, che è quella che in giroidea conosciamo meglio perché è il nostro target, e cerco di spiegare perché il video potrebbe davvero rappresentare un'opportunità per tante piccole e medie imprese che hanno prodotti eccellenti che vogliono presentare attraverso la rete, per attrarre, incuriosire e vedere quindi aumentare il proprio giro d'affari. Prima però, come premessa, volevo dirti che per iniziare a fare video, la prima cosa è voler bene alle persone che stanno di là dalla telecamera. Questo ti renderà più vero e renderà più attrattivo il tuo messaggio. Fai tu stesso un esperimento. Quando vedi qualcuno in video, capisci subito se sta parlando col cuore o se invece sta parlando solo col cervello perché in quel momento vuole venderti qualcosa a tutti i costi. Passando al come, avrei un'altra domanda da farti. Quanto tempo investi per parlare con le persone che vuoi coinvolgere? Fare video efficaci, utili e attrattivi è un'attività che ti cambia la vita, perché spenderai un sacco di tempo nella ricerca del contenuto migliore. Non esiste un modo per fare i video, esiste il tuo modo per fare video. I grandi comunicatori non seguono un cliché, parlano al cuore del loro pubblico e raccolgono le community attorno ad essi. Se prendi in esame queste quattro domande, avrai una base solida su cui iniziare a pensare come fare i tuoi video. Quale effetto avrai sul pubblico? Cosa risveglierà il tuo intervento nel pubblico? Quello che presenterai, quale effetto avrà? Il pubblico che ti guarderà ne uscirà rafforzato o indebolito? C'è una regola non scritta che ti consiglio dopo averla adottata. È utile per fare ricerca di contenuti che poi diventeranno i tuoi testi. È la regola delle tre C. Comunicare, coinvolgere e convertire. Sodurre video per interessare nuovo pubblico è possibile solo se metti in conto di fare un percorso di crescita personale. Chi fa video e ha un grande seguito è perché lavora tanto sulla sua persona, cerca contenuti pertinenti e li veste in maniera interessante. Vuole arrivare al suo pubblico tenendoli incollati davanti al video. Solo chi è vero può trasmettere contenuti che risultino veri. Solo chi pubblica questo tipo di video può sperare di avere un seguito fedele. E poi, solo successivamente, fare business per aumentare il suo giro d'affari. Una comunicazione efficace nel video è figlia di un'esperienza vera nella vita. Ho seguito la storytelling di un imprenditore nel campo edile. Ebbene, il suo video più visto lo ha impegnato per circa 4 ore di ricerca, circa 6 ore di post-produzione e alla fine ha generato un video di 1 minuto e 30. Ora ti porto la mia esperienza. Io sono partito pensando di pubblicare un video al mese. Sono già arrivato a più di 4. La mia giornata imprenditoriale è cambiata. Faccio almeno 2 ore di ricerca al giorno. Archivio tutto su un file drive. Al mercoledì, al venerdì, estraggo il contenuto migliore. Lo rileggo, lo studio e poi mi filmo. Creo il video in circa 30 minuti. E poi mi ci vuole un'ora di post-produzione su iMovie. Ho molto margine di miglioramento, lo vedo dalle attività che faccio, ma più o meno questo è il tempo necessario. Il video che produco lo trasferisco su YouTube, dove in giro idea abbiamo creato una playlist dedicata proprio a delle pillole business. Il link poi lo metteremo nei commenti. Passo poi alla configurazione della copertina, che creo con un file grafico di Adobe Spark, e creo i credits per completare il video, dove magari inserisco delle transizioni per marcare le cose più importanti che voglio dire all'interno del video. Da questo momento ha inizio un processo comunicativo dell'ufficio stampa interno, che noi abbiamo chiamato il cerchio della comunicazione, dove tutti i contenuti vengono diramati sulle varie piattaforme social, alla ricerca della profilazione migliore del target che vogliamo interessare. Noi parliamo agli imprenditori che hanno piccole e medie aziende con prodotti e servizi che vogliono comunicare al nuovo pubblico della rete in modo attrattivo, per aumentare il proprio giro d'affari. Io credo di averti raccontato tutto, soprattutto la mia esperienza vera, per convincerti che davvero i video rappresentano una grande opportunità, che anche tu devi sfruttare quanto prima. Se vuoi bene alla tua azienda e al tuo business, questo è un percorso che devi affrontare. È certo che il video è un vettore primario insieme alla comunicazione tradizionale per raggiungere nuove persone, per attrarre nuovo pubblico. Vorresti anche tu arrivare a creare un video al giorno? Io ci sto tentando, ma se anche tu hai capito lo sforzo che ci vuole e pensi di non avere tempo per poterlo fare in maniera corretta, hai una soluzione molto semplice. Ci sono dei partner che ti possono dare una mano e che tu dovrai scegliere in base al cuore che loro mettono nel presentarti il loro servizio e anche in base all'esperienza che hanno fatto. Quindi cerca solo di essere attento, di parlare con queste agenzie di comunicazione che fanno video, di guardare i loro casi studio e di fare la scelta migliore. Mi raccomando. Ciao. Bye bye. Alla prossima chicca.